Eccoci ritornati in diretta, dunque dopo aver ascoltato le parole del nostro arcivesco padre Franco Moscone che ringraziamo ancora una volta per la sua disponibilità, abbiamo parlato di padre Pio come gigante della carità riferendoci evidentemente anche alla sua opera più conosciuta, la casa sollievo della sofferenza come abbiamo detto all'inizio adesso ci spostiamo di qualche chilometro da San Giovanni Rotondo andiamo nel capoluogo, andiamo a Foggia dove c'è questa benemerita direi istituzione dei frati minori cappuccini la mensa dei poveri intitolata proprio a San Pio da Pietrelcina che da più di mezzo secolo continua a fare del bene in questa città che davvero in qualche maniera sintetizza anche tante povertà relative non solo a persone di nazionalità italiana ma anche a tante persone che giungono da altre parti del mondo per cercare un futuro migliore ne parliamo con il carissimo Fra Francesco Bottalico responsabile appunto della mensa dei poveri San Pio da Pietrelcina di Foggia che è collegato con noi, ben trovato Fra Francesco, buongiorno, grazie per essere con noi Buongiorno Fra Francesco, buongiorno a tutti, è sempre un piacere ritrovarti Spero tu stia bene Sì, 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 siamo qui in piena opera ormai sta iniziando già il servizio di questo fine settimana come vedete alle mie spalle c'è il cuoco che si destreggia tra i fornelli e ormai siamo a dei numeri sempre più grandi quindi prima che c'eravamo con il fuoco i punti dei fornelli dove c'è il fuoco quasi non bastano più per mettere tutte le varie pentole che servono In effetti l'attività della mensa dei poveri è in continuo aumento potremmo dire così poi soprattutto dopo la pausa estiva Fra Francesco voi siete un punto di riferimento al cuore della città di Foggia il mese di agosto avete chiuso le attività anche per ferie e per vacanze come giusto e doveroso che fosse i ritmi pare siano aumentati addirittura rispetto alla chiusura potremmo dire Sì, sì, non bisogna nascondersi tra l'un dito purtroppo è un dato davvero inquietante avete utilizzato forse l'aggettivo più adatto ormai abbiamo superato abbondantemente i 300 pasti giornalieri di media io sono arrivato qui meno di due anni fa ma era raro arrivare a 200 quindi purtroppo è un dato molto molto preoccupante perché significa che la macchina sociale è più carente rispetto a qualche anno fa non riesce a garantire sussidi, non riesce a garantire lavoro non riesce a garantire tutto ciò che serve per condurre una vita dignitosa Certo, e quindi possiamo dire che la povertà in generale colpisce senza guardare il colore della pelle o la nazionalità ma ultimamente il numero degli italiani sembra che sia aumentato si parla di nuovi poveri e quindi in questo senso insomma sono tanti a rivolgersi a voi anche persone che insomma prima conducevano una vita tra virgolette normale, agiata, giusto? Sì, sì, ormai sono più della metà se fino a una decina di anni fa la maggior parte di quelli che utilizzavano e usufruivano di questo servizio erano extracomunitari che qui a Foggia è un grande crocevia di questo esodo perché ce ne sono tanti che passano e poi si dirigono verso altri luoghi adesso ormai più della metà sono italiani famiglie, pensionati, divorziati persone che hanno perso il lavoro persone che lavorano ma non hanno uno stipendio capace di poter pagare l'affitto, bollette o se hanno figli, materiale scolastro e quindi per forza di fatto devono fare delle scelte mirate dove spendere quei pochi soldi che riescono a reperire assolutamente, ma viene anche tanta gente per non stare da sola vero? Perché trova lì una forte compagnia sì, 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 soprattutto gli anziani vedo che si fermano ben volentieri mi riferivo proprio a loro si, sì, 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 sì anche perché poi la cucina della mensa dei poveri lo dico anche sorridendo è buona sì, ma stavo guardando i piatti mi stava venendo fame ho sentito anche persone che insomma, il trattamento è buono possiamo dire così Sì, perché una regola dice su tutte che stiamo servendo Gesù, nel povero Gesù si è identificato più che in altre persone, quindi il meglio, tutto ciò che possiamo dare di meglio lo diamo, senza dire no, questo non va bene, forse è troppo, no, non esiste il troppo quando si serve il povero. Senti Fra Francesco, parlando delle attività dunque che voi portate avanti, la mensa è aperta, la mensa dei poveri San Piore e Pietrelcina di Foggia è aperta solo a pranzo, spieghiamo un po' anche ai nostri amici telespettatori questa esperienza. La mensa è aperta a pranzo, però ormai da più di due anni abbiamo anche dato il servizio dell'asporto, nel senso che noi stessi forniamo anche dei contenitori dove poter mettere il cibo da portare per la sera, quindi ognuno che barca questa soglia può fermarsi qui e consumare il pasto caldo e poi portarsi il cibo per il pasto serale. Ci sono anche altre attività all'interno della città di Foggia che garantiscono un pasto, però chiaramente essendo molto grande non tutti riescono a raggiungere in tempo quei punti di distribuzione, quindi abbiamo pensato di poter fornire loro anche questo servizio. Certo, ed è bello sapere che insomma il popolo si muove nella carità e risponde a questa richiesta insomma della gente che ha bisogno. Oggi vogliamo mettere proprio in risalto questo, lo spirito della carità nel cuore della gente del posto e questo ci conforta tantissimo. Ma qualche volta possiamo venire a trovarvi lì? Volentieri, vi aspettiamo, anche perché qui ci sono tanti volontari di diversità, giovani. Ma infatti volevo chiederti, quante persone ci sono lì ad aiutare più o meno a occhio e croce? Quanti volontari? Allora, i volontari che gravitano attorno alla mensa sono una trentina, ecco di quelli più assidui. Sì, infatti diventa anche un polo pastorale, non è solo un polo caritativo. Perché Papa Francesco l'ha detto più volte, la nuova evangelizzazione passa attraverso i poveri, perché sono i poveri che poi scardinano quel cuore chiuso, un po' ragrinzito. Perché davanti a una persona che soffre inevitabilmente siamo costretti a non rimanere sordi, possiamo fare gli indifferenti fino a un certo punto, poi qualcosa si muove. C'è poco da fare, la carità deve essere attiva, se no non è carità. E in effetti, Fra Francesco, per chiudere, siamo ormai alla vigilia della festa di San Pio da Pietrelcina. Voi non so se state preparando qualcosa di speciale, di particolare, magari per il 23 settembre, se vuoi ce lo puoi spiegare. Ma la domanda che vorrei farti, oltre questa, è insomma con quale spirito continuate, nonostante anche le tante difficoltà. Perché è inutile negarlo che ci sono delle difficoltà per quanto riguarda questo servizio di carità, che insomma, sì, è vero, ti mette a contatto con la carne viva, come ha detto Papa Francesco di Cristo, che è la povertà. Però poi ti fa rendere conto anche che esistono tanti limiti che in qualche modo vanno superati. Sì, l'idea per noi di festeggiare San Pio insieme a loro è quella, anzitutto, di cercare di fare un pasto ancora più buono. Perché noi ormai sappiamo un po' i gusti, sappiamo quello che riesce a terminare subito. Invece faccio un esempio molto banale. È chiaro che quando si passano i legumi non tutti piacciono. Però ci vogliono le proteine. Quando c'è la pasta al forno, quando c'è la carne. Allora, questo è, poi cerchiamo di offrire un dolce, ci fermiamo di più a parlare con loro, ci sono più volontari. Quindi cerchiamo in tutti i modi di far sentire anche a loro l'aria di festa. Passiamo un bicchiere di vino anche. Olè! Con le dovute precauzioni. Sì, 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 sì. Deve esserci un clima di festa anche per loro. Per questo, questa agenzia. Benissimo. Allora, Fra Francesco, noi ti ringraziamo davvero di cuore perché questa mattina abbiamo voluto offrire un altro spaccato della carità concreta dei frati minori cappuccini che nel nome di Padre Pio continuano a stare, anche vicino alla gente che, come giustamente ha detto Giulia prima, ormai non guarda la povertà, non guarda più in faccia a nessuno. È davvero un'esperienza comune a tante persone che ci sono a fianco. E voi, grazie al vostro servizio, rendete questo problema un po' meno pesante. E di questo vi ringraziamo e sono sicuro vi ringraziano anche i tanti ospiti, più di 300, come ci hai giustamente sottolineato, che quotidianamente si riuniscono intorno al tavolo anche nel nome di Padre Pio. Fra Francesco, grazie, grazie di cuore, buona festa di Padre Pio. Non so se ci rivediamo qui a San Giovanni. E un abbraccio a tutti, eh? Faccio bene. Grazie, grazie a voi. Faccio bene. Grazie, grazie fra Francesco Bottalico. Noi ora ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.